Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo young adult su una diciassettenne apparentemente timida e fragile, ma con una passione segreta per il gioco League of Legends. Quando ha l'opportunità di partecipare a un importante torneo, deve decidere se sfidare le sue paure. Il libro affronta tematiche comuni dell'adolescenza, come il bullismo, la pressione dei genitori e la ricerca della propria identità, in cui molti lettori potrebbero identificare con le proprie esperienze personali. La storia è una testimonianza di come la passione e l'impegno in una cosa che si ama possono portare a crescita personale e a nuove opportunità. La trama del libro Gamer Girl, della scrittrice Valeria Notari, pubblicato dalla casa editrice Mondadori, è la seguente. Per molte delle persone che le stanno intorno, Giulia, diciassettenne e dall'apparenza timida e fragile, è la ragazza strana, forse perché sembra sempre nascondersi dentro film per oversize o fare di tutto per non essere notata. In effetti, molto spesso Giulia sparire lo vorrebbe davvero, almeno così non dovrebbe sopportare gli infiniti battibecchi dei suoi genitori, perennemente in disaccordo su cosa sia più giusto fare e non fare per la figlia in questa delicata fase della vita, come se lei non avesse diritto di parola al riguardo, o fare i conti con una sorella con la quale, da quando è fuggita letteralmente in Inghilterra per motivi di studio, ha perso totalmente la complicità di un tempo, o fingere di non soffrire nel vedersi bullizzata oppure ignorata di compagni di classe. Per fortuna esiste il Challenger, un gaming bar dove può nascondersi e dedicarsi alla sua più grande passione, League of Legends, un rifugio nascosto all'arresto del mondo, dove nessuno la giudica o pretende di insegnarle come è giusto che lei sia o si senta. Giulia poi è incredibilmente brava, pur essendo una player amatoriale, e grazie a questo suo talento, un giorno ha la possibilità di partecipare a un torneo in cui viene notata dallo staff di un'importante game academy che le fa una proposta a cui nessuno potrebbe dire di no. Per Giulia però accettare non è così facile. Questo significherebbe trasformare un hobby solitario, condiviso per i pochi minuti di una partita con degli sconosciuti, in qualcosa di serio. Soprattutto significerebbe condividere tutto con la sua squadra, proprio tutto, ed è questo che più la spaventa, più della fatica di convincere i genitori a dare il loro consenso. Ma forse per lei è arrivato il momento di raccogliere tutto il coraggio che ha in corpo e affrontare le proprie paure, fidandosi di quell'istinto che così tanto spesso ha messo in discussione. Forse è arrivato il momento di guardare al futuro senza per una volta provare un cieco terrore. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami per favore a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.